La procura di Catanzaro ha disposto il sequestro della placenta nell'inchiesta per l'omicidio colposo di una bimba nata morta venerdì scorso all'ospedale Pugliese Ciaccio. Il sostituto procuratore Alessandro Prontera vuole verificare l'esistenza di presunte responsabilità mediche che potranno essere accertate insieme alle cause della morte solo con l'esame autoptico, che verrà disposto nelle prossime ore, così come nelle prossime ore scatteranno gli avvisi di garanzia. Mancava poco al giorno del parto. Il termine sarebbe dovuto scadere il 23 ottobre. Il ginecologo che aveva in cura, Simona Rocca, 27 anni di Catanzaro, durante l'ultima visita risalente a 15 giorni fa, le aveva detto di aver toccato la testa della sua piccola nella giusta posizione, pronta a vedere la luce, ma che la placenta era invecchiata prescrivendole riposo e in attesa dell'ultima visita prevista per la prima settimana di ottobre, le aveva consigliato di andare in un consultorio per i tracciati, l'ultimo dei quali era stato effettuato il primo ottobre con esito negativo. Nessuna anomalia, nulla che facesse desumere un pericolo per quella neonata che la vita non l'ha accarezzata nemmeno per un attimo. Poi la tragedia, la mattina del giorno seguente la donna non sente più muovere la piccola dentro di sé, va in ospedale dove lo stesso ginecologo che l'aveva assistita privatamente per tutta la gravidanza, le pratica il parto cesareo. La piccola nasce morta.